gentili telespettatori buona giornata oggi nei miei video ho già parlato di un senza vergogna che deve scrivere un libro non avendo capito nulla e con questo video vi parlo di un altro senza vergogna completamente parliamo di so maoro che si paragona a nelson mandela ieri alla camera in sala matteotti l'ex amico di bonelli e fratto janni ha organizzato un convegno in ricordo di nelson mandela uomo di pace ed è veramente fuori luogo nel senso che questo deputato so maoro non dovrebbe più essere in parlamento avrebbe dovuto dare dimissioni molto tempo fa e invece lì a montecitorio che organizza convegni è incredibile 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 moglie suocera a vario titolo accusato di tutte le possibili nefandezze immaginabili nel settore dell'accoglienza e non solo non aver pagato i migranti aver speso personalmente si sono comprati ristoranti villaggi turistici con i soldi dello stato e lui di fronte a bubaccar di fronte alla platea che ascoltava questo convegno dice dobbiamo ridare anima alla parola politica vabbè dobbiamo ridare anima alla parola politica attraverso essa dice diamo speranza alle preoccupazioni degli operai delle imprenditrici dei lavoratori degli imprenditori del popolo delle partite iva di tante persone prosegue so maoro che per la loro confessione religiosa vengono invisibilizzate ha detto proprio così invisibilizzate beh possiamo dire che nelle cooperative di famiglia lavoravano a gratis immigrati costretti a vivere al freddo con cibo di pessima qualità addirittura in mezzo ai topi tra le contestazioni mosse ai vertici di queste cooperative c'è quella di aver speso anche un paio di milioni di soldi pubblici in viaggi vacanze ristoranti negozi di liquori ma moglie sua c'era di sua maoro avranno il modo di dimostrare la propria innocenza ecco il problema di questo sua maoro a bubaccar non è giudiziario perché lui non è stato né arrestato non ha nessun rinvio a giudizio il problema è la sua credibilità politica lui che ha costruito fittiziamente la sua candidatura in parlamento sulle lotte dei braccianti degli immigrati è entrato a montecitorio con gli stivali e il pugno chiuso e poi l'indagine per le sulle cooperative di famiglia quindi moralmente lui che non poteva non sapere quello che combinavano a casa sua lui che non poteva non sapere cioè lui che sapeva tutto moralmente oggi è completamente fuori luogo è completamente fuori luogo e lui dice invece bisogna pensare nell'ottica dei giovani senza metterli nelle condizioni di ricevere il fardello delle preoccupazioni di oggi cerchiamo di volare con le ali della speranza con gli ideali con una visione con l'immigrazione ma senza staccare i piedi dalla terra dove ci sono i bisogni materiali della gente i loro bisogni tutto questo è facile se vogliamo insieme questo evento è un modo di ricordare la figura di mandela attraverso chi oggi lotta per i diritti per la dignità e poi dice la palestina si schierò subito dalla parte del sud africa perché sapeva cosa voleva dire la colonizzazione l'occupazione delle proprie terre mandela diceva non mi giudicate per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono cadute sono riuscito a rialzarmi va bene quindi abbiamo visto un suo mauro senza vergogna che fa finta di niente fa finta che non sia mai successo nulla lui arrampicatore sociale non si assegna al fatto che dopo essere arrivato in cima gli è crollato tutto addosso lui l'arrampicatore sociale voleva rimanere in politica a vita ormai e credo e spero che nessun partito voglia ricandidarlo alle prossime elezioni perché è moralmente improponibile sono sicuro che quasi sicuro che nessuno lo candiderà fra quattro anni nonostante tutti i suoi convegni e il suo far finta che non sia successo nulla fra quattro anni non se ne sentirà più parlare di questo signore che ha preso in giro tutti ecco vi ricordate i selfie dove lui pagava chiedendo alla gente di far finta di chiedergli un selfie oppure le finte manifestazioni dove lui pagava 50 euro a persona chiedendogli di far finta di fare una manifestazione dove lui era una sorta di sindacalista dei braccianti quindi lui abilmente si è costruito un'immagine l'anti salvini il leader dei braccianti degli ultimi lui il deputato con gli stivali naturalmente poi tutta questa costruzione artefatta è crollata in poco in pochissimo tempo intanto io vi racconto che il gas e ai minimi da due anni come anche la benzina il diesel sono scesi sotto le cifre di un anno fa il gas ai minimi di due anni e cambia la bolletta finalmente e pertanto è una buona notizia dopo mesi in cui il prezzo è stato ai massimi ora il mercato fa registrare una riduzione notevole per le famiglie che si trovano ancora in regime di tutela ovvero coloro che usufruiscono di forniture con condizioni contrattuali e tariffe stabilite dall'autorità per le reti e l'ambiente e sì c'è stato un calo intanto dell'1,3 per cento nei consumi di novembre rispetto al mese precedente l'autorità ha definito una nuova soglia basandosi sulla componente del prezzo del gas per coprire i costi dell'approvvigionamento allora è una famiglia tipo che va da dicembre 2022 novembre 2023 ammonta come spesa 1431 euro circa all'ordo delle imposte la tutto questo risulta in diminuzione del 17,7 per cento se confrontata con i 12 mesi precedenti per quanto riguarda il mese di novembre 2023 stato confermato l'azzeramento degli oneri generali assieme alla riduzione iva al 5 per cento ma il prezzo del gas è sceso del 14,4 per cento rispetto al periodo pre crisi in quanto a novembre 2020 rialzo è del 56,2 per cento grazie a tutti e arrivederci a presto